La campagna in controtendenza. Nel voto per le segreterie il PD regionale sceglie Maurizio Martina, ex vice di Renzi e dunque il candidato alla segreteria regionale che lo sosteneva, Leo Annunziata, sindaco di Poggio Marino, uomo del governatore De Luca, che insieme a Casillo si aggiudica il primo round di queste primarie per il congresso. Martina si attesta oltre il 50% a Napoli, nel feudo salernitano del governatore arriva addirittura al 75%, primo anche a Benevento e Avellino distanziando Zingaretti al 35% e Roberto Giacchetti all'8%. Per la successione di Assunta Tartaglione alla segreteria regionale, il sindaco di Poggio Marino supera il 50% con un picco dell'80% a Salerno, il distacco da Armida Filippelli e di parecchi punti. La preside napoletana, sostenuta da Nicola Audati e Marco Sarracino in quota Zingaretti, non supera il 25%, mentre l'ex sottosegretario Sannita, Umberto del Basso De Caro, si attesta intorno al 15%. Saranno loro a sfidarsi direttamente per la segreteria regionale del PD nel prossimo turno delle primarie, il 3 marzo, questa volta aperte anche ai non iscritti al partito. E non mancano le polemiche. Hanno vinto le vecchie logiche, i soliti signori delle tessere. La Filippelli, unica donna candidata, non nasconde la sua rabbia. E anche ad Avellino, Martina sorpassa Zingaretti e nel PD Irpino è subito scontro con il sindaco di Chianchi, Grillo, che invoca l'intervento della magistratura. È una vergogna. Fino a qualche giorno fa Zingaretti era dato in vantaggio, dopodiché si riunisce la commissione di garanzia e a tavolino per pochi voti decidono le sorti del congresso. Ma tutto questo sarà spazzato via dalle primarie che si svolgeranno tra qualche giorno, aperte a tutti, dove sicuramente Zingaretti avrà un successo.